Una prestazione da consolidata grande, la Virtus Lanciano esce imbattuta dal Liberati di Terni e lo fa grazie a una prestazione solida, rischiando qualcosina nel primo tempo ma sfiorando il colpaccio che sarebbe arrivato senza una traversa di troppo. E poco importa che Lempoli, rullando la malcapitata regina, si prenda il secondo posto in solitario in classifica. Baroni sorprende tutti, sceglie Falcinelli davanti e non comi, Babatiam e Gatto i suoi scudieri mentre Mammarella riprende il suo posto sulla corsia mancina del pacchetto arretrato. Prestazione solida, si diceva, ma che fatica, soprattutto perché al primo sussulto del match dopo poco più di un minuto le fere passano, la svirgolata di Viola dal limite diventa l'assist perfetto per il diagonale sottomisura di Antonio Zito, che non crede ai suoi occhi, controlla e fulmina sepe. Lanciano subito sotto e in difficoltà, quando i rossoverdi sembrano giocare sul velluto, forti dell'iniziale vantaggio. Litteri non ha la mira dei giorni migliori, mentre Antenucci, uno degli spauracchi in casa rosso-nera conclude centralmente da buona posizione. La Virtus soffre e inizia però piano piano a costruire le basi del pari. Il piazzato di Mammarella trova lo stacco imperoso di Babatiam, pallone che accarezza il palo alla destra di Brignole, si perde sul fondo, ma per l'1-1 c'è ancora da soffrire perché la premiata ditta sepe Amenta diventa un muro invalicabile dinanzi al doppio tentativo da distanza ravvicinata di Antenucci prima e Zito poi col terzino che forse controlla il pallone con un braccio. Al 38esimo però arriva il sospirato pari, schema da corner, Mammarella pesca Fabrizio Paghera, il piccolo mediano aggiusta il mirino e fa fuoco, il destro di rara bellezza è assolutamente imparabile, Brignoli non può farci nulla, per Paghera ritorno alla marcatura dopo tanto tempo, ultimo sigillo a Brescia all'esordio in campionato a fine agosto. La ripresa vede le fere più volenterose, la squadra di Tesser ci prova con Zito, la potenza c'è, la precisione un po' meno e sepe blocca senza problemi mentre la stoccata di Mirko Antenucci si perde alta sopra la traversa. Allora ci prova Litteri, il suo diagonale dall'interno dell'area di rigore smorzato quel tanto che basta dalla scivolata di Marcel Buechel in ripiegamento difensivo. Anche Gavazzi prova la fortuna in zona gol, non la troverà perché il suo mancino è a lato esattamente come la spizzata del neo entrato Ceravolo, imbeccato dal piazzato con i tempi giusti del solito Zito. Baroni inserisce Comi davanti, l'ex Novara si traveste da assistman e trova il tuffo aereo di Diego Falcinelli, Brignoli è immobile ma per l'attaccante in zona gol questa è davvero un'annata stregata. La palla incoccia la traversa e torna in campo. Nel finale entra Minotti per Gatto, difesa 3 per la Virtus che blinda un risultato comunque più che positivo e non servono a cambiare i destini dell'incontro gli ultimi tentativi perché Rispoli spara altissimo e la testa di Gavazzi non trova il bersaglio grosso. Finisce 1-1 dunque tra moderata soddisfazione e rimpianto per quel legno per la Virtus. Terzo posto in solitario ma nemmeno il tempo di poter tirare il fiato. Martedì sera di nuovo in campo, al biondi arriva il Crotone, non ci sarà Menta squalificato per la sfida tra due delle realtà più belle di questa Serie B. Grazie a tutti.